Ben trovati a Prima Linea TG, è stabile la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia, i nuovi casi di persone risultate positive al test sono 480, ieri erano 484, 26 i morti, ma diminuiscono i ricoveri. Sentiamo. È un trend costante quello che si registra in Sicilia sui nuovi contagiati covid, i dati che arrivano oggi dal bollettino del Ministero della Salute sono in linea con quelli di ieri. Nell'isola sono stati infatti 480 nuovi casi, appena 4 in meno rispetto a 24 ore prima, un dato ottenuto su quasi 25.000 test con una percentuale di positivi leggermente in calo, 1,9% contro il 2% di ieri. Resta alto invece il numero dei decessi, oggi 26, mentre i dimessi guariti sono stati 1.105. Respirano un po' anche gli ospedali dove sono ricoverate 40 persone in meno. Nel saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive siciliane si registra un saldo di meno 9. I nuovi contagiati divisi per provincia sono invece 176 a Palermo, 111 a Catania, 51 a Messina, 50 a Siracusa, 29 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 16 ad Agrigente ed Enna, 7 a Trapani. Sul fronte dei vaccini dalla Fondazione Gimbe di Bologna arriva una fotografia dei dati sulle persone vaccinate. Numeri rilevati dall'11 al 16 febbraio che collocano la Sicilia all'undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni, 2,07% rispenta ad una media nazionale del 2,18%. L'isola è preceduta dal Molise e seguita dal Lazio. La classifica vede in testa la provincia autonoma di Bolzano con il 4,15% e si chiude con la Calabria, ferma all'1,46%. Le dosi somministrate sono state per il 69% destinata agli operatori sanitari, il 24% a personale non sanitario, il 7% ad ospiti delle RSA. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto partire un'indagine rapida per una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti di Covid inglese, brasiliana e sudafricana. L'obiettivo è identificare tra i campioni con risultato positivo possibili casi di infezione riconducibili a varianti 53, i tamponi siciliani che verranno analizzati.